Sono le 15.30 di mercoledì 10 luglio, c'è appena stato un forte temporale su tutta la costa molisana, grandine in alcuni punti, pioggia su Termoli. Questa è la situazione del mare alle spalle del depuratore del porto di Termoli. Possiamo ben vedere il colore marrone, l'odore è nauseabondo, questa è l'enorme ghiazza che si spande e che arriva fino alla costa. Non sappiamo se ci possa essere stata una nuova rottura dalla condotta del depuratore, né se c'è uno scarico più vicino al depuratore stesso, però questa è la ghiazza, questa è l'immagine che si vede, ben distinti i colori nelle acque dell'Adriatico che bagna Termoli. Grazie.